e poi vorrei sapere se si sente a Roma in passaggio oppure c'è già un accordo, quantomeno un'idea di collegare il suo tratto. Per quanto riguarda il futuro, ovviamente, non lo so, per quanto riguarda il mio rapporto con il calcio è un rapporto appassionato, personale e da quello che ho visto qui, in pochi giorni, i tifosi sono davvero molto caldi quindi su questa base mi aspetto una relazione molto buona con i tifosi e poi accorgerò, mi piace festeggiare la grande quando si vince e mi aggrabbia tantissimo quando viviamo, ma proprio come i tifosi e chiedo che di solito i tifosi amino i calciatori che amano i vinci.